Noi siamo un'associazione di comunità, Banco WPM nella sua tradizione era una cooperativa e allora ha nel suo interno una cultura di comunità e quindi si è venuto naturale, ci siamo trovati, ci siamo parlati e il rapporto si è creato facilmente. E' una parte del SNIP che è andata avanti per 5 anni? Per 5 anni perché noi abbiamo bisogno di impostare dei programmi almeno quinquennali non si può vivere alla giornata sempre e siccome noi abbiamo 4 milioni e mezzo di sostenitori e 20 mila volontari dobbiamo esprimere tranquillità a questo esercito di sostenitori e la tranquillità arriva anche con gli accordi pluriennali. Tra l'altro noi siamo convinti che il mondo delle imprese, a parte la banca, il mondo delle imprese è pronto oggi per sostenere la ricerca perché si rendono conto che l'economia non si muove senza ricerca e quindi mi sono convinto che noi riusciremo a raccogliere molte adesioni e quindi costruire non solo una comunità di persone ma anche una comunità di imprese intorno a noi per spiegare alle istituzioni che la ricerca è la cosa più importante per il nostro paese. Ci racconta cosa succederà domenica e a chi sta guardando un messaggio per aiutare la raccolta? Domenica siamo nelle piazze, che cosa succederà non lo so, speriamo che siano tanti. Quest'anno abbiamo la variante che abbiamo anche gli alpini che saranno in giro durante la domenica. Di solito i nostri 20.000 volontari nelle 3.500 piazze italiane si impegnano sempre molto. La Zalea poi è un fiore simpatico, è la più antica, la prima delle operazioni di piazza che abbiamo fatto ed è un modo per dialogare con la gente perché questo è anche molto importante. Non si è comunità se non si dialoga con la gente, noi dobbiamo dialogare con la gente e quindi è una grande occasione di scambio di opinioni.